In lontananza ho notato che Anto era svenuto in acqua. Lasciate un mi piace se dobbiamo controllare cosa succede. Cosa? In effetti Anto era immobile e non dava nessun segno. Niente di niente. Una volta portato sulla riva, ho cercato di far muovere Anto. Ma più ci provavo e più non funzionava. Così poi ho avuto un'idea. Iscrivetevi se devo lanciare un secchio d'acqua fresca ad Anto. Fatto? Ok. Anto sei... Vinci! Mi sono... Mi sono svegliato. Ero svenuto? Come ti senti? E' entrato qualcosa nel mio orecchio. Cosa succede? E' entrato qualcosa nell'orecchio di Anto. Non ti sento. Non riusciva neanche a sentire. Lasciate un mi piace se dobbiamo controllare cosa c'è dentro. Sì, c'è qualcosa nel tuo orecchio. C'è un insetto. Sentite. Ha provato a far uscire l'insetto con una spazzola. Ma niente. Persino con un ramoscello. Vediamo. Forse. Ma... No! Sì, c'è qualcosa nell'orecchio di Anto. Ok. Iscrivetevi per far uscire l'insetto dall'orecchio di Anto. Oh, no. 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 Oh, no.